Allora ragazzi ecco il nuovo video di oggi dove dobbiamo sempre combattere vediamo quello che sta più disponibile qua vediamo qua ecco qui ecco adesso si comincia a spagare non ricominciamo di queste posizioni che mi servono o ci sono o non ci so e questo qua mi sembra che quando non riesce mai quando vuoi chiudi il video e vuoi distesso tu ma speriamo che non mi spari un da dietro questa squadra del Brutim e tu mi nascondite, guti pastati dai botta vacca qua non ce la stanno però, oh di scuola blu qua stiamo vedendo te che ora ci spagheranno da dietro dai cazzo vai adesso la facciamo a combattere qua su questi giochi non devi rimanere la gente e morite tutti quanti tantissimi ovviamente mi riferisco alla squadra blu quando sono contento si muoiono tutti quanti quelli nella squadra blu ma sono contento che tu non immagini ma sono contento che tu non immagini e qua non lo portiamo più lontata ma guarda qua senti come spagano con i giudi, senti come spagano non mi vengite qua, dai cazzo vai Sasamine, dai cazzo ho 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 Grazie a tutti. E' quella, alcuni, scendo pure la soffitta qua, vaffanone, me ne sono accolto troppo tanti, sennò... Fatemi fuori, mi sono scherato con voi a posto, non è che dispare, non è che lo dispare, non puoi, niente da fare. Sì, però io posso fare una patata, non c'è la mia attenzione, non è che la mia munizione. No, dai! Oh, Gesù! Sì, basta ragazzi, io non... Diciamo che io la faccio finita qua, dai! Allora ragazzi, ora vediamo i punti che abbiamo fatto, finiamo... E chiediamo il video. Bene, abbiamo vinto noi ragazzi. Allora, mettete il like in descrizione a questo video. Se non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi, come sempre, e ci vediamo al prossimo video.